Voi non sapete quanto tempo è che desideravo fare questa nuova uscita della PEM. Eccoli qua i formati airless. Io viaggio tanto, ho viaggiato sempre tantissimo e una delle difficoltà che ho trovato è quella di portarmi in aereo i miei prodotti. Oh, finalmente questo problema non ce l'avrò più perché mi potrò portare tutto il mio materiale biologico, certificato, naturale in viaggio nei momenti più belli, anche in queste vacanze natalizie. E sapete, ne ho fatto un cofanetto di cui vado veramente orgogliosa. È bellissimo! La PEM è bella, naturale ed efficace e l'ho messa tutta quanta in questo cofanetto stupendo firmato Riccardo Ruggeri in un'edizione limitata. Ci sono 5 formati airless, tutto quello che ti occorre per il tuo viaggio e per il mio. È una cosa che puoi regalare oppure che ti puoi regalare. Buon voyage con PEM! Grazie! 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 Grazie!